... la vittoria del Gran Premio delle Americhe, è capito molto bene Rinsen, e soprattutto anche non vale il Volker da dietro e Salon per più all'interno. Prova a recuperare Salon, in effetti sui due, potrebbe rimanere a filare per primo, così è, attenzione Rinsen all'esterno, sempre di soffattare, va per i primiari, si riesce, Volker che aveva fatto una buona professione in partenza.